E' stata presentata nella Sala Pasolini della sede udinese della Regione la sesta edizione di Lignano Boat Show, la rassegna dedicata a chi ama il mare e ne fa una passione da coltivare nel tempo libero. L'evento si svilupperà su due weekend consecutivi, 16 e 17 marzo, e quello successivo che cadrà ad una settimana dalla Pasqua, e sarà un primo banco di prove in vista della ripresa dell'attività della stagione estiva, che si annuncia fin da ora con numeri di presenze elevate, a giudicare dalle prenotazioni che stanno raccogliendo gli operatori alberghieri. Abbiamo già dei primi dati sulle prenotazioni che ci fanno ben sperare sia per quanto riguarda Lignano e Sabbiadoro ma anche per quanto riguarda Grado, quindi stranieri molto interessati nella nostra regione ma anche gli italiani. Abbiamo parlato di Lignano e Grado ma facciamo un passaggio anche sulla montagna. La stagione che si sta ormai concludendo è stata una stagione particolarmente difficile, causa meteo. Devo dire che in questi giorni sta ripreso a nevicare, cercheremo un po' di recuperare, comunque i numeri si confermano sempre molto importanti nei vari fogli. Tiene banco anche il tema delle concessioni demaniali, un nodo non ancora sciolto a livello sia nazionale che locale. I bandi di gara per gli arenili andranno fatti ma in attesa delle regole l'incertezza blocca investimenti e progetti di sviluppo. Il tema delle scadenze purtroppo limita investimenti in questa fase da parte dei concessionali, però la regione, il mio collega Callari sta lavorando in maniera molto importante, ha stretto rapporto con gli addetti ai lavori. Il punto più importante è la valutazione dell'avviamento e quindi il valore economico delle aziende che adesso non è contemplato. Nel senso si vada a gara, si riconosca però l'eventuale uscente perdente il giusto indennizzo da parte del subentrante.